Armonia e divertimento è la parola chiave per questa giornata di fitness in compagnia dei più piccoli. È importante educare i nostri figli fin da piccoli alla pratica di attività sportiva. Se ci vedranno eseguire degli esercizi, però sarà come un gioco. Gli avrà voglia di emularci. L'esercizio che oggi vi consiglio sarà possibile farlo anche con loro, con un'attenta supervisione da parte vostra. Un classico crunch su Swissball. Li posizionate con la schiena sulla palla, le gambe ben ancorate al terreno, mani dietro la nuca ed eseguite delle flessioni del busto espirando durante la fase concentrica. Potete abbinare anche un olio essenziale. Vi consiglio la lavanda vera. È un ottimo riequilibrante, un buon energizzante, crea armonia e neanche un ottimo antistress. Meglio di così.